salve a tutti e benvenuti sul train channel sono Trenciatore92 e questo sarà il primo opening pack delle casse di Killzone in pratica come vedete c'è un bordello di punti che ho accumulato durante la settimana tra l'altro spero di vince l'aftermath 2 di questo weekend questa qua oh cavolo sbagliato che praticamente è una nuova cosa che hanno introdotto per il weekend che praticamente ripercorre e metterà a disposizione tre mappe di un livello di un gruppo di livelli di un estratto diciamo del single player nella quale verranno scelte da guerriglia determinate limitazioni e ci si sfonda per tutto il weekend il primo che fa più punti vince 750 mila valor point io ce n'ho mille adesso 750 sono tutti una botta il secondo poi il secondo e terzo classificato e un quarto che può essere anche uno dei tre il precedente weekend non lo è stato quindi è una cosa che succede so 450 mila valor point chi ci sta più tempo ma bando alle ciance sperando di vincerli io comincerei allora avrei pensato di fare due da 30 uno da 150 due da 30 uno da 150 due da 30 uno da 150 e altri due da 30 ora siccome all'interno possono esserci dei delle cose che io già potrei possedere mi rimborsa due terzi del valore quindi non so come andrà a finire capace ci scappa qualche altro pacchetto ma vedremo intanto cominciamo con l'aprire il primo qui possiamo trovare dei perchi consumabili all'interno della stessa partita non ci credo sbloccato fucile m82 del supporto quello di killzone 2 che è una figata mostruosa non sapevo ci fossero le armi avello saputo l'aprivo 70 volte 70 di questi speravo anche nel fucile a cecchino controlla il campo di battaglia conquistando le aree più velocemente questi comunque sono dei consumabili si attivano all'inizio del match e si finiscono con la fine del match stesso di qua troviamo una serie di adesso ve li farò vedere tutta una serie di come vedete ci sono tutta una serie di oggetti che vengono venduti sullo store qui sono i pack voci questo convinto poi ci sono le skin dei droni un sacco di roba comunque sta tutta 1,99 sullo store non credevo ci fossero anche le armi perché fottutamente stanno nei dlc da 9 euro e 99 quindi c'è da urlo proprio movimento rapido si muove più velocemente quando corri e quando cammini che speriamo sia utile insomma specie su certe classi lente come il supporto andiamo con un altro da 30.000 e vediamo che c'è dentro innesco e disinnesco rapido buono procediamo con un altro da 150.000 e speriamo che c'è qualcos'altro che non c'ho animazioni e vai mostra sottolinea lancio del coltello figo perché questo qui praticamente se lo fate bene andate tipo a due metri d'altizio glielo lanciate dritto in mezzo alla fronte se sbagliate vi frega il coltello e ve lo pianta addosso insomma sostanzialmente tutta sta roba sta tutta a pagamento sullo store cioè non è roba da poco da quando hanno fatto sta cosa mi ci sto a chiudere buono un'altra arma di quelle lì del dlc cicongolo spero anche di trovare un moltiplicatore dei valor point che non mi dispiacerebbe subisci meno danni con ogni tipo di granata buono buono altro da 150 una skin buono formaggio pure questo insomma buono dipende dai sensi pure quella tra l'altro ho beccato tutta roba che non ci avevo mai sbloccata qui rigenerazione rapida dell'energia questo può essere utile in certi frangenti effettivamente dai sai dammi il fucile da cecchino che è finissimo no movimento rapido che ce l'ho ancora nel caso di queste da 30 mila siccome so perché consumabili non è che rimborsa la cifra in realtà ti da il numero sotto al perk quindi sapete che ce l'avete che ne so quattro di quel tipo consumabili per match quindi in questo caso i doppioni non vi vengono rimborsati passiamo all'ultimo da 150 bello il tema di sviluppo pack voci al team di sviluppo non il tema so dislessico oddio ok riprocediamo con questi a 30 buono è mentitore tattico questo è buono perché vi sblocca delle classiche pure queste fanno parte del dlc che in teoria sono vincolate al pack ribelle armi da lancio extra fighissimo ad essere rimasto non so mi sa che ho sbagliato da qualche parte però boh ah no forse c'era era andato sopra di mille punti di un tot altri pack voci questo siccome ce l'ho già e di ricompensa già in tutto possesso sarà riconvertito in punti quindi me ne da 100 mila che a sto punto io ci prendo altri due di questi e finisco proprio in bellezza sì 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 bellissimo questo di fucile mi piace un casino pure questo di killzone 2 rifatto per killzone shadowfall su richiesta dell'utente tramite ask gherigliana una cosa e vabbè un altro di questi però so contentissimo adesso ci andiamo subito a vedere più o meno che roba è quindi personalizzazione allora intanto qua la skin dell'automaccio questa è quella nuova che c'è quella del taxi che sinceramente questa è una cosa oscena di grado così guarda che carino questo che è sono su che esatto saito che non so chi è monster games boh figo vabbè poi vediamo un po vediamo ecco il pack voci ho sbloccato questo qui che è quello volgare in pratica che tipo quando state in game proprio si fa delle esclamazioni a voce che sentite sono ambientali quindi sentono anche i vostri amici vicini e tipo gli fa sì sì fuggi lo so che ce l'hai piccolo riferito all'arma però insomma in doppio senso robe del genere oppure gli fa copritemi razza di deficienti sto ricaricando perché magari voi siete vedrete rani di guerra robe simili c'è uno tipo che parla giapponese che non so che è ascoltare il programmatore mentre realizzano il gioco wow e allora mettiamo questo tra l'altro come vedete potete anche settar separatamente la fazione se è elgas o visa potete settarli indifferentemente non è che vi pregiudicano niente qua i mirini ho questi due sbloccati ecco questo sopra quelli che c'hanno che non c'hanno la bustina infatti non so dello store e vabbè che non lo sbloccati adesso questi sono quelli base che però devo ancora sbloccare qui le carte giocatori non ho sbloccato niente e quindi con questo siamo a posto e adesso io vorrei vedere sulla carriera le armi però che giustamente mi farà vedere ma non allora armi del cecchino adesso io in teoria ci dovrei avere qua giù eccolo questo qui che non è stato mai usato ma che me lo sblocca perché prima in realtà con quelle altre classi e proverò a vedere magari se mi riesce con l'assalto ci dovrebbe essere un'arma che non c'ho credo ma questa secondaria eccola la smg fighissima una specie di mitraglietta da fianco qui c'ho pure questo cioè ho sbloccato tutte le armi del dlc porca vacca so felicissimo poi l'em quanto cazzo è bello questo l'em 82 basta hype vabbè con questo è tutto questo è il primo opening pack forse ne farò pure un altro anche se ormai la roba figa l'ho quasi sbloccata tutta però ci sono ancora tante animazioni pek boci le divise le skin proprio per gli eroi insomma c'è ancora un sacco da un peccato quindi spero che vi sia piaciuto ciao a tutti salutate insomma cioè io vi saluto un saluto condividete e commentate se ci avete qualche ragazza che è interessata al canale di videogiochi così dideglielo perché con quell'altro canale bene o male c'erano una buona diversificazione dei generi qui 100% uomini e triste quindi spargete un po la voce un saluto e alla prossima ciao ciao